La grande potenzialità del teatro, lì dove si pone la condizione di poter attraverso il far finta esprimere parti di sé che normalmente vengono alienate, per cui paradossalmente indossando una maschera si ha la possibilità di toglierla quella maschera. Ripartono gli atelier teatrali territoriali, percorsi di formazione artistica e di costruzione civica ispirati all'impegno di Edoardo De Filippo per la tutela dei giovani a rischio. Presentati questa mattina al Teatro San Ferdinando, i nove laboratori avranno luogo nei quartieri di Forcella, Sanità e San Lorenzo. Ora a Forcella, che è un luogo dove io e Marina Ripa, insomma con FPL, lavoriamo ormai da anni, abbiamo aperto anche questa possibilità di lavoro con gli adolescenti, anche con le figlie delle donne con cui lavoriamo. Scegliamo Romeo e Giulietta perché è un testo che comunque appassiona gli adolescenti e ci si ritrova anche personalmente a delle coincidenze di vita, anche in un quartiere appunto come Forcella, famiglie che litigano situazioni sentimentali non facili e quindi il personale, il paesaggio interiore verrà sporcato da Shakespeare o il contrario. Tre progetti che coinvolgeranno bambini, adolescenti e giovani del rione Sanità e quindi tutti verranno fatti al nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Agita che farà i laboratori per i bambini, poi Riccardo Ciccarelli fa i laboratori con i figli degli extracomunitari, quelli che hanno già iniziato un progetto di integrazione e poi il terzo laboratorio che si chiama Edoardo senza Edoardo. Io e Carlo Caracciolo e Ciro Pellegrino metteremo in scena alcune, tra i momenti più rappresentativi, più belli di Edoardo De Filippo, in particolare quelli che riguardano l'amore, le coppie giovani, in cui Edoardo non è in scena, non è presente in quel momento in scena, ma ci sarà attraverso un'opera di Claudio Cuomo che è un maestro della cartapesta, un monumento della dramaturgia che in quel caso diventerà proprio un monumento fisico che sarà sul palco del nuovo Teatro Sanità. Il progetto è stato ideato e realizzato dal Comune di Napoli col finanziamento del Ministero dei Beni Culturali e col patrocinio della Fondazione De Filippo. Attraverso il teatro e la magia del teatro e la capacità di coinvolgimento dei teatranti, tanti ragazzi trovino occasione per esprimere e dare forma alla loro sensibilità, alle loro emozioni attraverso l'arte. Credo che questo sia un grande strumento di riscatto sociale e soprattutto utile a dare opportunità ai ragazzi e offrire loro un altro punto di vista sul mondo rispetto a contesti difficili in cui in genere trascorrono la loro vita. Abbiamo già esperienze significative in questo senso che si sono venute compiendo, in particolare per esempio nello spazio comunale di Piazza Forcella, il nuovo Teatro Sanità. E quindi aggiungere nuove esperienze, crescere la rete, creare nuove sinergie, favorire gli scambi anche tra ragazzi di quartieri diversi che fanno queste esperienze, ci sembra un modo serio di affrontare i tanti e complicati problemi che crescere nella nostra città comunque induce. Grazie a tutti.